Buongiorno a tutti, consentitemi intanto di ringraziare il Centro Studi Machiavelli e il Comitato Atlantico per avermi invitato e fare un particolare saluto all'Onorevole Formentini, al Ministro Cattaneo, al Professor Luciolli che ricordavo prima è stato anche mio insegnante all'ISMI, in qualche modo se dovessi dire qualche castroneria è colpa sua. Ho messo le mani avanti, ringrazio anche il Dottor Scalea per aver organizzato questo momento che ritengo particolarmente significativo e importante. Sono anche abbastanza onorato, molto onorato, non abbastanza onorato di essere qui a discutere con voi di queste cose e cercherò di dare il mio contributo, considerando il fatto di aver avuto degli autorevoli e illustri predecessori e anche successori nell'intervento che in qualche modo so bene, sanno più di me. Io cercherò di dare il mio contributo per quanto riguarda un po' gli aspetti più legati, come diceva il Ministro, alla parte più della difesa e quindi in qualche modo nel mio intervento, guardando a Vilnius mi concentrerò un po' su quello che è il supporto all'Ucraina. Di fatto i quattro temi di Vilnius li ha già elencati il Ministro, volendo ulteriormente sintetizzare potremmo dire che tutto è figlio del conflitto in Ucraina, perché anche gli altri quattro temi di fatto sono derivati del primo. Parlerò quindi un po' di questo e poi mi soffermerò un po' più su quella che è la postura di deterrenza e difesa che la Nato ha ultimamente elaborato, ma come diceva il Ministro è sempre in elaborazione, anzi a dire il vero anche che quella figlia del conflitto russo-ucraina nasce nel 2014, nasce con l'invasione della Crimea e poi ha vari step successivi. Quando io ho iniziato da studente sostanzialmente a parlare di Nato, lessi un libro in qualche modo interessante del generale Mini, che appunto era la guerra dopo la guerra, tra le altre cose sosteneva che vi fossero alla valle della caduta del muro di Berlino eserciti che non avessero più avversari e avversari che non potevano essere più combattuti con gli eserciti attuali, volendo appunto significare l'importanza della trasformazione. Da lì poi la Nato addirittura dai tre alti comandi strategici poi diventati due ne ha dedicato uno a CT, a Light Command Transformation, interamente al concetto della trasformazione, cioè di come adattare la postura, ma in particolare gli strumenti di deterrenza e difesa della Nato, al variare del contesto strategico. Certamente il 2014 ha rappresentato uno shock strategico e quindi in qualche modo noi siamo un po' in una fase di diversi ingegneri di quello a cui pensava Mini, cioè siamo anche un po' tornando verso capacità che servono per avere un confronto con un peer competitor. Quindi sì l'attenzione alla crisis management operation che abbiamo avuto per tanti anni, ma oggi ancora anche e ulteriormente un confronto diretto contro un avversario che ha capacità importanti. Ucraina, il rapporto con l'Ucraina non è certamente giovane, della Nato con l'Ucraina intendo. Nasce nel 91 a valle della caduta del muro di Berlino, vengono varate una serie di iniziative, viene istituito il NUC, il Neto Ucraina Commission, anche con la Russia nel 97 e poi, come ricordava il Ministro, nel 28 maggio del 2002 a pratica di mare c'è stato un importante avvicinamento, poi sostanzialmente chiusosi nel 2008. Con l'Ucraina invece il partenariato nel 2014 viene rafforzato, vengono varate una serie di misure a supporto del capacity building, della sicurezza e difesa del Paese con l'obiettivo dichiarato che l'Ucraina dovesse raggiungere nel 2020 gli standard di interoperabilità con la Nato. Questo partenariato nel 2022, quindi a valle dell'inizio del conflitto, viene ulteriormente rafforzato e vengono stabiliti una serie di percorsi di mutua assistenza, di rafforzamento reciproco, sulla base però di tre principi. La revisione del CAP, del Comprehensive Assistance Package per l'Ucraina, non deve nel lungo termine influenzare le relazioni politiche tra Ucraina e Nato, cioè la cooperazione militare non è il viatico necessariamente di un avvicinamento politico di cui ha già parlato il Ministro. Le attività lanciate nell'ambito della revisione su richiesta Ucraina non avrebbero interferito in alcun caso con l'assistenza bilaterale di altri paesi, perché noi sappiamo che molto dell'assistenza militare in termini di formazione e di capacità vengono fornite a livello bilaterale dai paesi e che l'assistenza fornita dalla Nato in questo contesto sarebbe stata esclusivamente su aspetti di natura non letale. Questo è il quadro nel quale l'Alleanza Atlantica definisce i rapporti di assistenza con l'Ucraina. Sappiamo che oltre all'Alleanza Atlantica c'è un'altra organizzazione internazionale in cui siamo ovviamente parte molto attiva, quella dell'Unione Europea, che è con EUMAM Ucraina, cioè l'European Union Mission Assistance verso l'Ucraina, complementa l'attività della Nato e dei paesi in bilaterale con attività di assistenza in termini di capacità e di equipaggiamento e anche di formazione specialistica e di base verso i soldati ucraini. È evidente che, passando al secondo tema, quella della postura di deterrenza e difesa, il mio anno allo Stato Maggiore Difesa non è stato un anno semplice dal punto di vista lavorativo, come sarà certamente stato anche per il Ministro Cattano. E cioè, con uno scherzo, volevo dire che è stato un anno particolare per l'Alleanza, dove effettivamente le basi poste nel 2014 poi sono andate concretizzandosi in questo ultimo anno, l'Alleanza ha ridefinito la propria postura di deterrenza e difesa, lo ha fatto nei vari vertici 2016-2018, vertice a Madrid-2022, che è stata via via incrementata. Come è stata incrementata la postura di deterrenza e difesa dell'Alleanza? Intanto è stata incrementata in tutti i domini. Nel dominio terrestre abbiamo avuto prima la creazione di quattro battle group sul fianco est, uno per ognuno dei paesi baltici, più in Polonia. 2016, col vertice 2016 approvato e poi implementato nel 2017, mentre invece a Madrid, dove è stato varato il nuovo concetto strategico dell'Alleanza, è stato approvato quella che viene chiamata l'Enance Vigilance Activity, e cioè la creazione di altri ulteriori quattro battle group sul fianco est, Bulgaria, Romania, Slovacchia e Ungheria. In questo contesto l'Italia certamente ha giocato un ruolo importante. L'Italia è framework nation, nazione che aggrega altri contributi di altre nazioni in Bulgaria, dove abbiamo il battle group, come vi dicevo, scusate, a guida italiana, ha una partecipazione importante anche nel battle group ungherese e queste otto entità sono state, diciamo, sono in via di preparazione, le predisposizioni per eventualmente, speriamo non ce ne sia la necessità, ma eventualmente per scalare a livello di brigata. Quindi un contributo assolutamente importante, assolutamente decisivo per difendere, secondo l'articolo 5, i confini dell'Alleanza Atlantica, per garantire la collective defense, per garantire quello che è detto appunto nell'articolo 5, cioè che un attacco armato ad uno o più paesi dell'Alleanza Atlantica equivale a un attacco armato a tutti e quindi in questo modo, in termini di postura e di deterrenza, la Nato certamente ha avuto un ruolo importante, spero, credo, se ne sono convinto, decisivo. C'è stato un aumento della postura di... in realtà lì non è proprio giusto definirlo un aumento della postura, ma certamente c'è un aumento delle attività di vigilanza anche per quanto riguarda il dominio aereo. Nel 2016 è stato incrementato il supporto di air policing dell'Alleanza Atlantica, in particolare lungo il fianco est, supporto al quale l'Italia partecipa in maniera importante. Oggi siamo con i nostri Eurofighter in Romania, a breve saremo nell'ambito delle turnazioni in Polonia. Forniamo anche standing, un contributo anche dal nostro paese di difesa di air policing dell'Alleanza a paesi vicini che fanno parte dell'Alleanza. Penso per esempio al contributo dell'aeronautica militare e della Nato, quindi all'air policing della Slovenia, dell'Albania, del Montenegro e a breve probabilmente sono in corso negoziazioni in tal senso anche della Croazia e della Macedonia del Nord. Quindi un impegno importante sia standing dal nostro paese ma anche deployati, rischierati all'estero lungo il fianco est per rafforzare e definire la postura di difesa dell'Alleanza. Anche nel dominio navale, marittimo, con le standing naval forces, la Marina italiana svolge un ruolo importante e determinante che sono ulteriormente incrementate nel caso di necessità. Quindi dicevamo un processo lungo di adattamento che verrà ulteriormente discusso a Vilnius dove appunto ci potrebbero essere anche ulteriori indicazioni da parte dei capi di Stati e di Governo per valutare la postura di deterrenze e per scongiurare un conflitto dell'Alleanza con un near peer competitor. Il processo di adattamento quindi ha riguardato elementi tangibili di presenza delle forze armate dell'Alleanza sul fianco, in particolare sul fianco est, ha riguardato la riscrittura di tutti i piani di difesa adattati al nuovo contesto strategico, ha riguardato una nuova concezione delle forze, viene chiamata New Force Model dove le forze dell'Alleanza vengono riorganizzate secondo un nuovo modello di prontezza che in qualche modo impegnerà tutte le forze dell'Alleanza e anche quindi quelle italiane verso i nuovi target previsti dall'Alleanza, anche dal punto di vista dello sviluppo delle capacità dello strumento militare, il conflitto e anche l'Eleanza dell'Ucraina ha definito molte delle linee strategiche verso le quali noi dobbiamo tendere. Con un po' d'orgoglio dico che in realtà le forze armate italiane hanno già perseguito linee importanti di sviluppo capacitivo in tal senso, dal punto di vista qualitativo, chiaramente ci sono riflessioni in corso dal punto di vista quantitativo, perché il conflitto ha dimostrato che c'è bisogno di avere capacità anche di scorta e di supporto importanti. Altro elemento importante è stata di fatto via via riadattata la NATO Command Structure. Che cos'è la NATO Command Structure? La struttura dei comandi della NATO. In maniera chiaramente espansiva non avremo più solo due JFC Joint Force Command, ma tre, uno a Norfolk, il terzo, che guarderà all'Atlantico, al collegamento Nord America-Europa, anche tenendo in considerazione eventuali nuove vie di comunicazione e come sfruttarle dal punto di vista strategico. L'adattamento della NCS e della NATO Command Structure riguarda anche un ulteriore comando a Ulm in Germania, che è responsabile di preparare tutta l'area di operazione, la logistica. E quindi questo chiederà maggior impegno anche in termini di uomini all'Alleanza. Noi siamo tra i principali contributori dell'Alleanza e questo ha un effetto su quelle che saranno le contribuzioni in termini economici, in termini di capacità e anche in termini di uomini che dobbiamo mandare all'estero, all'interno delle organizzazioni internazionali. Anzi, mi sento di dire che oggi più di ieri il peso delle organizzazioni internazionali, NATO ma anche Unione Europea, rispetto agli interessi nazionali, lo diceva prima anche l'Onorevole, sta crescendo. Quindi la nostra capacità all'interno delle organizzazioni internazionali di orientarle, i giochi saranno fatti un po' più, ecco questo volevo dire, all'interno dei consessi negoziali delle organizzazioni internazionali e quindi sarà ancora più strategico la nostra capacità in queste organizzazioni di starci in maniera adeguata in termini quantitativi ma soprattutto qualitativi, con capacità adeguate di influenzare le direttrici strategiche di queste organizzazioni verso anche interessi nazionali e dell'alleanza atlantica. Il conflitto, oltre ad avere una sua, diciamo, potenziale, speriamo resti potenziale, confronto, ha anche degli spillover evidenti in altre aree del mondo. Lo dicevano sia il ministro che è l'Onorevole, è evidente questo in Africa, con la presenza di Wagner in più punti, con il fatto che durante, nelle risoluzioni dell'ONU di condanna all'aggressione all'Ucraina, mezza Africa e quasi due terzi della popolazione mondiale, non si è espressa proprio in maniera favorevole alla condanna dell'aggressione russa. Quindi c'è un tema anche dei valori occidentali, di come questi vengano difesi e della consapevolezza anche del fatto che forse non siamo più la maggioranza e quindi su questi temi anche il consenso andrà attenzionato. Il tema dello spillover è evidente certamente in Africa, lo è in tutta la zona del Mena, la Cina si è fatta promotrice di un piano di pace, formalmente. La Cina è stata mediatrice di accordi importanti, di riavvicinamenti importanti, tra potenze dell'aria sicuramente strategiche e questo certamente ci impone di guardare con rinnovata attenzione a quelle che sarà una competizione strategica che nei prossimi anni sarà ancora più importante e che certamente ha una declinazione militare importante, ma ovviamente non solo e forse, anzi certamente, quella militare non è neanche la più importante. Multidominio. Cosa vuol dire multidominio? La Nato e la nazione si sta spostando verso il multidominio, cioè la capacità di integrare aria, spazio, mare con i nuovi domini, cyber e spazio, aereo, spazio, navale, terrestre e cyber, in un processo di effetti integrati. Siamo anche impegnati oggi noi come Alleanza Atlantica, abbiamo certamente il predominio tecnologico. Sarà ancora così in futuro? dipenderà dalle scelte che faremo oggi. Io spero e credo di sì, ma c'è anche un tema che riguarda la supremazia nel campo tecnologico, in questo anche per la divisa che indosso lasciatemi citare il Global Combat Air Program, il nuovo impropriamente aereo del futuro. in realtà non è un aereo del futuro, è un insieme di progressi, di progetti, di sviluppo tecnologico che l'Italia, in particolare con l'aeronautica, sta sviluppando insieme al Regno Unito e al Giappone, che sono, io credo, foriero di tanto sviluppo tecnologico, di cui sono certo gioveranno non soltanto le forze armate, ma anche la cittadinanza. Altra cosa importante, e certamente un'altra lesson learned, un'altra indicazione che ci dà la guerra in Ucraina, è attenzionare il tema dell'industria della difesa. L'industria della difesa è certamente strategica, ha delle peculiarità, probabilmente lo sviluppo e il rafforzamento dell'industria della difesa è certamente un elemento importante, andrà fatto con i partner principali all'interno dei due consessi, Nato e dell'Unione Europea, ma è un tema assolutamente centrale che riguarda il know-how della nazione e la capacità noi tutti di difenderci propriamente e a lungo nel tempo. Altro tema, sicuramente, che tengo a sottolineare è di come sia importante che anche l'Unione Europea, che attraverso la Global Strategy e poi lo Strategic Compass, si sta dotando di capacità di difesa anche autonome, in un processo non semplice ma avviato attraverso una roadmap che declina lo Strategic Compass, ci sono sensibilità diverse all'interno anche dell'Unione Europea, anche forse giustificate dal momento. La posizione italiana è molto chiara e io credo anche condivisibile, cioè che lo sviluppo dell'identità di difesa e sicurezza dell'Unione Europea è importante e deve essere fatto in maniera complementare allo sviluppo della Nato. Ci sono sensibilità diverse, noi crediamo che come abbiamo in qualche modo, come non io, l'Italia, è riuscita a raggiungere tante vittorie in questi anni, anche questa possa essere una battaglia da perseguire e da vincere. Per esempio quella sul Global South. Eravamo in pochi a dire guardiamo al Sud, sembra che non siamo più così pochi. Il rafforzamento del Lab per il Sud, l'idea di dare a GFC Naples anche competenze sul Defence Building in Africa, sono oramai idee che, seppur non completamente approvate in ambito Nato, certamente vedono la nostra posizione appoggiata da stati membri importanti e in fase di crescita. Cioè l'idea che il conflitto non è più solo limitato al fianco est, ma che ha una sua declinazione anche in Nord Africa, anche in Medio Oriente, è quasi assodata all'interno dell'alleanza, va rafforzata. In conclusione, le sfide che ci riserva il futuro sono certamente molteplici. Attengono ad aspetti quantitativi del rafforzamento dell'alleanza. Lo citava prima il Ministro, il 2% del PIL è sicuramente uno di questi, ma anche l'incremento delle capacità operative dell'alleanza atlantica e di come questo viene sviluppato in maniera sinergica, in maniera efficace, e anche dal punto di vista qualitativo. Cioè la nostra capacità come alleanza di intercettare le nuove tecnologie, mantenere il vantaggio tecnologico, e anche, lo diceva il Ministro, rafforzare partenariati strategici nell'Indo-Pacifico, nell'Africa e nelle altre aree di particolare interesse per la nostra sicurezza.